È fissato per domani, martedì 11 maggio, alle 10, nella chiesa di Villa San Martino, il funerale di Manuel Berti, pesarese 24enne che nella mattinata di sabato ha perso la vita a causa di un incidente in moto in località Borgo Pace. Erano da poco passate le 11 quando il giovane Centauro, in sede al suo mezzo, mentre saliva lungo i tornanti del passo di Bocca-Trabaria, poco dopo la frazione di Lamoli, è uscito dalla carreggiata schiantandosi contro il guardrail. Il forte urto non ha lasciato alcuna speranza al ragazzo, che dopo aver violentemente battuto la testa è deceduto sul colpo. Inutili quindi tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario del 118 per soccorrere il ragazzo, che si stava dirigendo in Umbria insieme ad un gruppo di amici. Insieme ai soccorsi, sul posto sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco e la polizia locale. Nell'incidente non sono state coinvolte altre vetture e la strada è rimasta interdetta la circolazione per alcune ore, per effettuare tutti i rilievi del caso. In queste giornate sono tanti i messaggi di cordoglio comparsi sui social per salutare e ricordare Manuel, ai quali ha deciso di rispondere il padre, Luca, che attraverso il proprio profilo social ha voluto ringraziare tutti per l'appoggio ricevuto. Proprio insieme al padre e al fratello maggiore, il 24enne lavorava nella storica ditta di famiglia che si occupa di pitture edili e decori per interni.